Ed eccoci qui all'oretta di Bon Ton per Boy Con. Ciao, come ti chiami? Federico. Cosa festeggi Federico? L'addio al celebato. Davvero, sei sicuro? Non ho sentito niente. Sei sicuro di volerti sposare? Certo. Perché? Perché sono innamorato della mia futura moglie. Come si chiama l'affortunata? Angela. Da quanto stai con lei? Due anni e mezzo circa. E non sei ancora stanco? Quasi. Beato sì. E allora, raccontaci un po' di voi, convivete? Sì, esatto. Dove, dove? Vincia di Bergamo. Il mio bel paesino tranquillo. Visco d'Adda, sì. Pensi di fare figli? Comprare il cane? Il cane ce l'avevamo. La casa? Adesso la casa c'è già. Piscina? Piscina non c'è. Giardino chi lo segue? Io. Chi fa da mangiare? La moglie. Chi lava? La moglie. Chi sira? La moglie. Chi fa le spese? Io e la moglie. Chi paga le bollette? Io e la moglie. Chi fa più shopping? La moglie. Decisamente alla moglie. Decisamente. Ma allora, noi questa sera siamo qua, solo ed esclusivamente, per farti divertire e divertirsi insieme a te e sarà la nostra missione. Allora, ciao! Buon divertimento! Grazie ragazzi, grazie! Buon divertimento!